Attrice, cantante, autrice, drammaturga, dopo la laurea in scienze politiche il diploma allo studio di arti sceniche di Alessandro Fersen ha seguito masterclass di grandi maestri internazionali ma soprattutto una donna anticipatrice, precursora dei tempi ed è considerata dalla critica davvero un'antesignana, pensate citata nell'enciclopedia del teatro contemporaneo. Restate con noi tra poco dopo la sigla. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Stanno una laterna e stanno ancora davanti So, vogl'viare un'altra, vogl'viare un'altra Per la laterna vogl'viare un'altra Come èstt Lili Marlin Come èstt Lili Marlin E sulle note struggenti di questa canzone emblema della Seconda Guerra Mondiale e sull'immagine di questa interpretazione intensa il separo di spazioscenico si apre sulla protagonista di oggi, Violetta Chiarini. Buongiorno. Buongiorno. Sono particolarmente lieta e onorata di averla oggi in studio con noi. Anch'io, anch'io. Violetta, lei ha svolto l'attività artistica sia nel teatro di prosa sia nel teatro musicale. Mi viene un po' da pensare, si sente forse più a casa sua sul palcoscenico e con il microfono forse, che nella vita reale. Allora, io sul palcoscenico adopero il microfono soltanto quando c'è l'orchestra o il pianoforte. Altrimenti ho sempre recitato senza microfono perché il tipo di preparazione che avevamo noi di un certo tempo era tale per cui dovevamo... non si usava il microfono. Certo. Era tutto diaframma. Sì, tutto diaframma e ventre e pelvi e Grotoschi diceva addirittura la base dei piedi. Cioè da lì partiva la voce. Da lì partiva la voce e l'energia interpretativa, la forza interpretativa. Sì, sì. Io vorrei far vedere qualche foto di lei sul palcoscenico, Violetta, perché effettivamente noi qui vediamo una bella signora garbata, quasi compassata, invece la forza espressiva sul palco. Qui cos'era? Allora, questo è l'ultimo lavoro che appunto è appena uscito, pubblicato da Sipario Europa. Quindi l'ho portato perché, come dire, up to date. È il mio testo che ha vinto il premio Sipario, portale dello spettacolo, che si chiama Guerra Mondiale e Guerretta Metropolitana, sul tema della pace e della guerra, che io svolgo a modo mio. E questo è il finale del primo tempo che è molto drammatico. E invece poi c'è il secondo tempo che è tragicomico. Ecco, questo è il personaggio del secondo tempo, però è sempre lo stesso tema. Quindi un bello signoro, diciamo, no? Si viene declinato. No, nel secondo tempo è la Guerretta Metropolitana. Ah, ok. Quindi, diciamo, l'argomento è sempre quello, ma il primo è in chiave drammatica, il secondo è in chiave tragicomica. Ha sempre coniugato effettivamente i due aspetti, l'ottimismo, l'umorismo, l'autoironia. Possono essere considerate effettivamente un po' l'elisir di lunga vita? Sì. Cioè, secondo me, la forma più alta, tra le forme più alte, diciamo, di intelligenza, c'è la capacità di prendersi in giro, di mettersi in gioco. Perché nel momento in cui si acquisisce la sicurezza del proprio valore, ci si apre agli altri, quindi si può mettere in gioco, si prende l'iniziativa, non si sta nella difensiva aspettando che cosa farà l'altro. No, ti apri e osi, e così l'altro si sente disposto ad aprire. Ed è la base poi per i rapporti pacifici. È vero, sono perfettamente sulla stessa linea d'onda. Ascolti, a un certo punto arriva nella sua vita, o forse c'è sempre stata, la scrittura. Dunque, io, a dir la verità, mi sono sempre affidata a grandi autori. C'era anche Silvano Ambrogi, che ha scritto per me, Mazzucco, tanti... Però poi, a un certo punto, specialmente per la radio, mi sono trovata, negli anni 90, a dover fare dei monologhi per il Buongiorno di Radio 2, in cui facevo la serva della Sora Chiarini, che è poi quella che abbiamo visto vestita di rosso, e poi la Sora Chiarini, che invece faceva la sofisticata e cantava dei leader, eccetera. E a un certo punto, questo scontro, che poi sono due aspetti della mia persona, che non va demonizzato, quello dionisiaco rispetto all'Apollineo, non riuscivo ad averli resi bene dai testi che mi proponevano. E allora, a un certo punto, c'era il regista Alberto Fe, mi ricordo, e mi disse, ma perché non te li scrivi tu? Ma io non oso, non so. Ho fatto, ho scritto e sono andati, non so, a 90 monologhi. Con risultati eccelsi, tra l'altro. Mi ricordo che è bianca la copertina di Radio Corriere. A proposito, l'aspetto dionisiaco e l'aspetto apollineo, dove si ritrova di più? Un miscuglio, forse? Io sono del segno della bilancia. Allora dico sempre, Apollo sta di qua e Dioniso sta di là. Tutte e due. Brava. Tutte e due. Giusto equilibrio? Sì, tutte e due, perché siamo uno nessuno e centomila, cioè io non mi sento confinata. A volte prendendo in prestito una parola da un grande studioso, l'ho sentita alla radio, quando parlava di frittate e di grattacieli, no? E io sono frittata, nel senso che ho tale curiosità, sono curiosa di tutto, spirito di ricerca, talmente forte, che mi interessa qualsiasi aspetto della vita e dell'arte. È vero, Violetta Chiarini è davvero un personaggio eclettico e un'artista poliedrica, davvero. Ma questo qualche volta, in un mondo dove c'è tanta specializzazione, rende difficoltosa la realizzazione. Potrebbe essere una diminuzione anziché un surplus. Cioè nel Quattrocento, nel Rinascimento, c'erano i grandi geni perché non c'era la specializzazione. Si dice, mania, componere parvis, per carità, non è che volessi metterli. No, è chiaro. Però voglio dire, come mai oggi un Leonardo non nasce? Perché la specializzazione uccide questa ecletticità, quindi anche la parte più umana della scienza, secondo me. Vorrei farvi vedere alcune foto che ci ha portato. Alcune sono foto di scena, come quelle che abbiamo visto, altre invece sono foto di backstage. Qua per esempio è con De Sica, grande De Sica. De Sica mi voleva molto bene, c'era un progetto in cui io ero protagonista. Ho fatto un primo film con lui in una parte di comprimaria, per ragioni di produzione, perché era stata scritta per me la parte. Nelle coproduzioni ci sono interessi anche commerciali. Certo. Però De Sica era rimasto male di questa imposizione e aveva già scritto l'ultimo film che poi non ha potuto realizzare perché ci ha lasciato. E' stato un bellissimo momento, ho imparato tanto da De Sica. Immagino, veramente un gigante. Molto, sì. Palcoscenico? Questo è Dario Fo durante le prove dell'opera dello Sghignazzo, lì c'è Nada a sinistra. E mi sta guidando in questa opera mastodontica che abbiamo portato in giro per l'Italia per dieci mesi circa. E anche quello è stato un maestro dal quale ho imparato tanto. Diciamo che la famosa serva della sora Chiarini, fu lui che mi disse che dovevo potenziare questo lato popolare. L'ha stimolata, diciamo. Certissimo, cioè ho imparato di accettare il dionisiaco, di non essere una… Esatto, parlando proprio di quell'aspetto. Sì, sì, lui… Ecco, De Sica, Fo, la stessa Nada, tutte persone di cultura… Sì, anche con Nada c'era una grande amicizia è nata. Tutte persone di cultura, oltre che persone del mondo dello spettacolo. Ecco, voi artisti avete una grandissima, enorme responsabilità. Sì, noi abbiamo… Se noi capiamo che il talento che la natura ci ha dato lo dobbiamo mettere al servizio degli altri e quindi viviamo la nostra professione come missione ed è l'unico modo per viverla perché noi scriviamo sull'acqua, allora ci rendiamo conto che abbiamo il compito di aprire la strada alla società che arriverà, cioè dobbiamo essere antesignani, altrimenti la nostra professione è un narcisismo inutile e sterile. Istrionico e basta. Sì. Beh, credo che sia molto intensa questa sua riflessione, anche molto autentica, molto vera. Sì, perché io ho dato questo senso alla mia… Per questo ho lasciato perdere quando ero bella e giovane… Ma lo è ancora, Violetta, è bellissima. Tutte le sirene e avevo il mondo ai miei piedi, ma non era quel tipo di successo che volevo. Io mi identifico con il concetto di successo che ha esposto un giorno Lalla Romano, poco prima di morire, che diceva che nel successo, con la S maiuscola, quello che ti dà il consenso di massa, il denaro, lei diceva che c'è qualcosa di volgare, di sguaiato, di chiesoso. Di sguaiato, sì. Cioè, io mi sono creata… E si rinuncia forse a qualcos'altro, no? Sì, ma poi io mi sono creata la mia idea di successo. Cioè, intanto successo è ardere di passione in tutto quello che fai. E poi il successo è avere uno scopo, uno scopo che non sia soltanto narcisistico, ma erga omnes. Per tutti. Per la tua missione. E poi, il giorno in cui lo raggiungi e hai la vittoria, quello è il successo. Cioè, la vittoria sulla battaglia che conduci per un obiettivo di importanza, diciamo, anche per gli altri. Ha più rimorsi o più rimpianti? Ho rimpianto. Un rimpianto ce l'ho. Ed è quello di non avere studiato la musica per diventare un direttore d'orchestra. Beh, ma fa sempre in tempo, Violetta, conoscendola. No, infatti, diciamo che i miei musicisti li comando io, però non conosco una nota. Ascolti, siccome il tempo è tiranno, lei mi ha parlato di una sorta di santità laica dell'attore. E mentre mi risponde su questa cosa, volevo far vedere un'altra immagine di scena bellissima, tra l'altro in costume. Questo è il golem per la direzione e la drammaturgia, perché è l'autore del mio grande maestro, Alessandro Fersen. Io lì sono con Glauco Mauri, protagonista di questo golem. E si riconosce lui, infatti. Perché è santità laica dell'attore? Ecco, lui mi ha inculcato questa santità laica dell'attore che ha condizionato tutta la mia vita. Cioè, il teatro ha origini religiose. Quindi, si rifà. Di catarsi, di purificazione. Quello che ho detto prima, cioè della missione, si ricollega a questo concetto della santità laica, perché l'attore ha questo compito, questa missione di elevare, diciamo, di elevare lo spirito degli altri, di portare, cioè... Tante volte si esce dal teatro assolutamente depressi e con immagini delle brutture della vita, ma la vita è già brutta di per sé in tanti aspetti, per cui non abbiamo bisogno che venga rappresentato sempre il male. È vero. Mi devi far vedere come sarebbe la vita se non ci fosse il male, quindi mi devi dare dei parametri perché io possa su di essi costruirmi, edificarmi. Certo. Quindi, l'attore ha questa grande risposta. E questo periodo storico, ancora di più, che è un periodo storico, politico, economico, una congiuntura di impoverimento prima di tutto culturale e poi economico, sicuramente la necessità del recupero e della cultura del bello. Del bello, perché il bello è anche il buono, cioè Venere è anche la dea della bellezza e della bontà. Quindi la santità laica dell'attore, che mi ha inculcato il mio grande maestro, è proprio quella di questa missione di portare il bello e il buono come un santo, però siccome siamo laici, è una santità laica. Adesso la dico un po' in soldoni. Certo, è così. Lei, tra l'altro, ha creato spettacoli che miravano proprio alla salvaguardia di particolari forme espressive che erano e sono patrimonio artistico europeo. Sì, mi hanno preso per matta quando nei primi anni Ottanta io cominciai a fare il revival. Imperversa la disco music. Io a Berlino avevo già inciso i miei dischi disco music, però tornando in Italia mi sono resa conto che c'era un patrimonio europeo importante di cui si andava perdendo la memoria storica. E allora non c'era internet ancora. E quindi ho cominciato a girare le varie biblioteche europee, eccetera, con l'aiuto sempre del maestro Vannucchi che è stato in coppia artistica con me fino alla sua scomparsa neanche due mesi fa. Purtroppo. E quindi abbiamo creato questi spettacoli di revival per... Sempre del maestro Vannucchi e quella parte, quell'audio video iniziale. Sì, è lui che suona, è il maestro Vannucchi che suona, sì. Al teatro Ghione, devo ringraziare anche... In tanto volerlo abbiamo fatto anche un piccolo tribù dal maestro Vannucchi. Il maestro Vannucchi, del quale poi faremo una serata a parte nel mio piccolo centro culturale per dedicargli proprio un omaggio grande. Certo, dovuto. E quindi queste ricerche che abbiamo fatto col suo aiuto, perché lui ha creduto in questo mio repertorio, dopodiché, dopo di noi, mezza Italia ha cominciato a fare repertorio, anche perché non c'era nessuna idea nuova. Certo, gli apripista. Assolutamente antesignale. Voglio ricordare che Violetta Chiarini ha vinto anche moltissimi premi letterali, drammaturgia, anche internazionali. Insomma, ha avuto veramente tantissimi riconoscimenti. Oggi si occupa anche di empowerment femminile, quindi assolutamente lodevole, lodevole davvero. E questo la rende ragazzina ancora. Questo la rende ragazzina. Ed è membro del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, che ha come telos, come scopo di questa istituzione, proprio questo, no? Di valorizzare i drammaturghi contemporanei, perché si fa sempre magari grandi, classici, e poi la realtà di oggi chi la racconta. Quindi abbiamo una presidente molto attiva, che è Maria Letizia Compatangelo, con la quale io collaboro, e stiamo portando avanti questo, portando avanti è proprio una frase molto trita, ma ci vuole, questo compito di valorizzare e anche di avere rapporti con l'estero, infatti sto curando anche una cosa come editing, per far sì che ci sia uno scambio tra la nostra drammaturgia e la drammaturgia degli altri paesi del mondo. In questo momento lo scambio più attivo ce l'abbiamo con il Messico. Pensi un po'. Sì, sì, sì. Io la ringrazio davvero Violetta di essere stata nostra ospite oggi, proprio sono stata felicissima. Grazie a lei. Grazie a tutti voi anche di averci seguito fin qui. Io vi do appuntamento, come sempre, lo sapete, se volete, qui a Spazio Scenico, su Aracne TV. Grazie a tutti.